In questo video vediamo come si fa a recuperare l'equilibrio in verticale su parallele. All'inizio vediamo presa neutra, quindi quella che è la presa classica, tradizionale, e poi vediamo qualche variante per chi è già bravo e vuole complicarsi un po' la vita, per esempio presa prona o presa incrociata. Partiamo subito col dire che su parallele l'equilibrio non è dato dal corpo che si muove, ma dalle mani. La prima regola da sapere è fare forza in questo senso, quindi spingere come se volessimo alzare la parte dietro delle parallele, in questa maniera, ogni volta che stiamo cadendo verso la schiena. Poi chiaramente quando andiamo a farlo nella pratica la parallela non si alzerà perché c'è il peso del corpo sopra. Quando invece stiamo cadendo dalla parte della pancia, quindi come se volessimo riandare in piedi, facciamo forza al contrario, come se volessimo alzare la parte avanti della parallela. Infatti sentiremo gli estensori che lavorano, cioè la parte alta esterna dell'avambraccio. Ovviamente riportato nella pratica, anche in questo caso la parte davanti della parallela non si alzerà perché chiaramente c'è il peso del corpo che la ferma. Chiaramente con la pratica si arriverà ad avere tutti e due i recuperi dell'equilibrio buoni, sia in avanti che indietro, e si arriverà a fare una tenuta solida come questa, fino a quando si diventerà particolarmente bravi e si riusciranno a fare anche cambi di figura come questi. Quindi si può passare al prossimo esercizio. La prima variante che vi consiglio è verticale in presa prona, in cui l'equilibrio somiglia a quella presa classica. Quindi quando stiamo cadendo dalla parte della schiena facciamo forza in questo senso, quando stiamo cadendo per riandare in piedi, quindi dalla parte della pancia, in quest'altro senso. Quando lo allenate in questa maniera, cercate sempre di fare in modo che il polso sia esattamente sopra la parallela, quindi in questa maniera qua. Non tenetelo dietro la parallela, fate sempre in modo che sia sopra. Quindi questa è la versione giusta. Quest'altra è la versione sbagliata. Cercate sempre di non estremizzarlo anche al contrario, quindi col polso più avanti della parallela, perché è un errore pure questo. Cercate quindi di essere al centro, col polso perfettamente sopra la parallela, in modo tale da avere sia un migliore equilibrio che meno rischio di infortuni per quanto riguarda i polsi. Questo è un esempio ritenuta solida su parallela in presa prona. La mano si muove esattamente come abbiamo detto nelle clip precedenti. Una volta diventati bravi anche in questo, l'obiettivo è fare varie forme, varie figure in un'unica tenuta. La prossima variante che vi consiglio di allenare è presa neutra sempre, ma su parallela singola. Qua c'è anche recupero laterale, oltre che avanti e dietro. Quindi ogni volta che cadiamo a destra facciamo forza in questo senso, ogni volta che cadiamo a sinistra in quest'altro senso. Applicando le regole che abbiamo visto, ovviamente con tanta pratica, si riuscirà a fare una tenuta come questa. Il mio consiglio è quello di diventare quanto più bravi possibili sulle statiche, quindi sulle tenute che abbiamo visto fino adesso, e solo dopo incominciare ad allenarle tutte in combinazione, quindi in un'unica verticale farne più di una. Una volta che le basi saranno buone, chiaramente io in queste clip vi mostro alcune idee, per esempio da presa prona a presa neutra, ma voi allenererete le varianti che più vi piacciono, che più vi dà soddisfazione imparare. Io ti ringrazio di aver visto il video, e scrivimi nei commenti se c'è qualche tutorial di qualche esercizio in particolare che vorresti imparare. Grazie. Grazie.